Segreti, suggerimenti e tecniche comunicative per essere più efficaci sui social network e internet. Copagri e l'Agenzia di Sviluppo Rurale hanno voluto organizzare un seminario per approfondire l'uso e le opportunità offerte dai social media per le imprese del territorio e non solo. Abbiamo fatto questo seminario sul suggerimento delle tante aziende che abbiamo per veramente essere molto visibili nel web. Il mercato attuale sarà il mercato prossimo, quindi navigare sul web, farsi riconoscere, poi utilizzare al meglio tutte le varie potenzialità che ci sono con i social, con Google, con tanti altri strumenti, è importante poterli prima conoscere per poi utilizzarli. In collaborazione con la Camera di Commercio di Macerata dove si è svolto l'incontro, esperti del gruppo SIS di Tolentino hanno dato consigli pratici e input su tecniche di marketing e comunicazione, social network e Google. Noi siamo molto attivi con le associazioni di categoria, con Farticianato in questa occasione e anche con Copagri proprio per dare degli input positivi a quelle che sono le aziende, le micro aziende del territorio. Dalle foto ai contenuti alle emozioni che cosa veicolare attraverso i social media per un'impresa. Qualsiasi cosa noi ci troviamo nei social network a postare, a condividere, che abbia un'emozione da comunicare. Qual è la cadenza media? Anche creare aggiornamenti all'interno del profilo? Nel caso di una pagina professionale, minimo tre post settimanali, un massimo di dieci post settimanali. Per i profili personali è chiaro, va a discrezione. C'è anche il bottoncino che dice elimina le notifiche di quest'utente. Se poi c'è una persona che fa un uso un po' esagerato di post e di ricondivisioni, bisogna un po' regolarsi per non essere troppo aggressivi con chi ci segue. Quindi è meglio, insomma, meno che più, direi. L'esperta di Google Federica Sclavi ha parlato di micro moment, cioè i momenti che contano per il cliente, ma anche per l'azienda che deve riuscire a soddisfare un preciso bisogno, non con messaggi standardizzati, ma con gli strumenti giusti messi a disposizione dal web. Tutte queste analisi che abbiamo, il profilo dei nostri utenti, utilizziamoli, utilizziamoli e diamo dei contenuti di altissima qualità ai nostri contatti. Saremmo sicuramente ripagati, piuttosto che con un messaggio standardizzato, sponsorizzato oppure rivolto alla semplice vendita finale.